Anticipazioni Un posto al sole, prossime storyline, tra Samuel e Michaela c'è futuro? Ad Un posto al sole, da un po' di tempo, Samuel si ritrova nel bel mezzo di una difficilissima situazione. Come ben sapete, sta portando avanti, nonostante innumerevoli dubbi, la sua relazione clandestina con Michaela, arrivando così a tradire la sua fidanzata, Speranza. Nelle prossime puntate, desideroso di rifarsi una vita accanto alla Cirillo, il cuoco escogiterà un piano per farsi lasciare dall'altieri e rendersi odioso ai suoi occhi. Tuttavia le anteprime indicano che non sarà per niente facile portarlo a termine. Comunque sia, una sera, credendo di non essere visto, Samuel arriverà a cedere alla passione con Michaela nelle cucine del Caffè Vulcano. La coppia, però, dovrà vestirsi in fretta, in quanto verrà sorpresa in flagranza d'annunzio. Nonostante il forte immarazzo, il suo amico, dopo averlo bacchettato, gli consiglierà di prendere in mano le redini della situazione, e di trarre al più presto le giuste conclusioni. Dopo una lunga riflessione, Samuel capirà che è con la Cirillo che intende costruire una relazione solida e stabile, e si metterà in testa di farsi lasciare dall'altieri. Nonostante questo, aggiungerà di non riuscire a trovare il coraggio per confessare a Speranza la verità, e cioè di essere innamorato di un'altra. Deciso a non assumersi le proprie responsabilità, nei giorni a venire, il piccirillo continuerà ad ingannare la sua ragazza, al punto da instillarle pesanti sensi di colpa. Riuscirà nella sua infima impresa? Sembra di no, anche perché i nuovi spoiler di novembre 2023, indicano che Michaela, ad un certo punto, lo spiazzerà affermando di non volere una storia seria con lui. Come proseguirà questa vicenda? Lo scopriremo presto. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.